Allora, buonasera a tutti. Oggi siamo qui con Giovanni Bruno. Giovanni è il segretario della Federazione di Pisa di Rifondazione Comunista. Recentemente ha pubblicato un libro, ecco qua, il libro Lenin, Teorie e Prassi, Una vita per la rivoluzione socialista. Il libro è stato pubblicato con la Città Futura e l'Università Popolare Antonio Gramsci. Andiamo un po' a discorrere del libro, ma soprattutto, Giovanni, a me la cosa che interessa è, a cento anni dalla morte, parlare dell'attualità del pensiero di Lenin. E quindi diciamo per quale motivo? Al giorno d'oggi, dopo cento anni, in realtà il pensiero di Lenin è più attuale che mai. Sì, ti ringrazio Luca intanto per l'invito. Allora, intanto brevemente la premessa che mi sembra interessante del libro. Il libro è nato da una lezione seminariale chiesta, insomma, che ho tenuto a dicembre con il gruppo dei giovani comunisti di Pisa, ma poi si sono uniti anche dalla Versilia, insomma, da altre realtà toscane. C'era un bel gruppetto di una trentina di giovani ragazzi e abbiamo presentato e ho presentato questa, diciamo, questa lezione su alcuni punti teorici fondamentali. Era un bisogno, diciamo, che questi ragazzi appunto avevano manifestato, chiedevano una cosa, diciamo, una presentazione di base, diciamo, e ho dato un'impostazione sull'insegnante, quindi ho dato un'impostazione chiaramente su un tema più specifico, però insomma un po' come faccio nelle mie lezioni. E quindi è stata un'introduzione e nel frattempo ho selezionato una serie di testi che mi sembrano fondamentali per comprendere alcuni passaggi, diciamo, non solo del pensiero, ma anche del pensiero applicato, no? Della appunto teoria e prassi che vanno sempre a braccetto in Lenin, nel senso che dalla teoria, la teoria viene verificata nell'azione politica e l'azione politica viene poi trasformata, elaborata appunto in teoria generale. Quindi ho fatto questo lavoro e alla conclusione, insomma, mi è sembrato utile, visto che era stata una lezione abbastanza partecipata, interessata per quello che appunto è stato il riscontro, elaborarlo in maniera appunto un pochino più strutturata. Quindi ho rimesso mano a questa antologia di testi selezionati, ovviamente sono una parte molto, insomma, anche ridotta per certi versi, però mi sono sembrati fondamentali appunto focalizzare su questi temi e ho fatto l'introduzione insomma per dare un po' il senso di questo lavoro. Come dicevi, appunto a cento anni dalla morte la mia idea era non di fare la statuina o di, come dire, imbalzamare ulteriormente oltre al corpo anche il pensiero, ma cercare di capire quanto del metodo, delle categorie che viene in elaborato, siano applicabili, siano, abbiano necessità di essere riaggiornate, un po' come ha fatto lui stesso quando ha preso le categorie, diciamo, di Marx e le ha in qualche modo, diciamo, ha preso un metodo da poter, ha riadattato, rielaborato e appunto anche, fra virgolette, forzato in qualche modo, come riconosce anche Gramsci nel celebre articolo la rivoluzione contro il capitale, cioè non ci si è limitati, i Bolshevichi non si sono limitati, il Jene non si è limitato a una presentazione ortodossa, come dire, del marxismo, del pensiero marxista che poi diventava sostanzialmente un pensiero gradualista e molto, diciamo, riformista, ma a dare una linfa vitale appunto a questo pensiero. Quindi ecco, questo mi sembra il primo elemento fondamentale del pensiero e dell'azione di Lenin, come di Gramsci, ovviamente su piani e momenti diversi rispetto appunto al metodo e alle categorie marxiane. Ma infatti la rivoluzione proprio contro il capitale, un tratto dell'articolo, apre proprio il tuo testo, no? È quello che lo troviamo proprio all'inizio come introduttivo e concordo soprattutto con questa visione sul fatto che da un punto di vista comunque metodologico ovviamente viene inarrotto poi dopo con quella che era la seconda internazionale, con i vari caos che complegano e tutto quanto. Perché? Perché loro giustamente si erano appiattiti come un po' oggi succede, seppure la socialdemocrazia da allora aveva posizioni molto più avanzate di quella di oggi. Sì, magari ad avercela viene da dire, no? Però si erano appiattiti comunque in una logica riformista, no? E la logica comunque ovviamente di Bernstein. E quindi perché? Perché vedevano che comunque il capitalismo procedeva, le forze produttive si sviluppavano e pensavano automaticamente che il socialismo sarebbe caduto dal cielo. In realtà la cosa fondamentale secondo me che fa Lenin ieri ma che oggi è ancora fondamentale è riportare il soggetto al centro del processo comunque rivoluzionario. Ora, con tutte le difficoltà che anche, diciamo, Gramsci ha analizzato nei quaderni sulla rivoluzione in Occidente, che lo stesso Lenin stesso ammette, no? Alla fine, diciamo, del 23-24, in realtà, diciamo, il soggetto è comunque centrale per il cambiamento. Altrimenti il cambiamento non avviene, no? Se aspettiamo che oggi, guardiamo oggi, se aspettiamo che la classe dominante faccia qualcosa per la classe subalterna, non andiamo lontano. Certo, la questione dell'antideterminismo nel marxismo credo che sia fondamentale. Io credo che Marx, a partire da Marx, poi lo stesso Engels è stato accusato, comunque messo, come dire, alla gogna per aver, in qualche modo, trasformato il marxismo in una sorta di destino, di qualcosa, appunto, un'attesa di, diciamo, di un avvento messianico del socialismo. Ma, invece, né Marx, né Lenin, né Gramsci, appunto, hanno questo atteggiamento. L'idea, appunto, di un gradualismo in cui, appunto, il soggetto non deve fare altro che, appunto, sostanzialmente, il soggetto, ovviamente, collettivo alla classe, altro che in qualche modo, vabbè, organizzarsi, ma sostanzialmente non compiere alcun atto di superamento, ma semplicemente, appunto, accompagnare il processo, è chiaro che è qualcosa che non ha niente a che vedere col pensiero di Marx. Marx e Lenin, come Gramsci, hanno, a mio giudizio, interpretato in maniera perfetta, questa, diciamo, appunto, riattualizzazione, riaggiornamento delle categorie. Insisto su questo aspetto del metodo, il metodo, quello che Marx ci ha dato, oltre a delle categorie, oltre a un'analisi profonda, ovviamente, del funzionamento del sistema, dell'economia politica e dell'ideologia, è il metodo. Poi è chiaro che, se noi vogliamo, effettivamente, considerare il socialismo, appunto, sul piano scientifico, appunto, non dobbiamo essere dogmatici, dobbiamo essere pronti a, appunto, correggere, via via, a quelli che sono, io equiparo a volte Marx, il pensiero marziano, a quello di Darwin, alla scienza dell'evoluzione. Insomma, è chiaro che oggi i biologi, pur considerandosi, definendosi darwinisti, insomma, hanno abbondantemente aggiornato il suo, diciamo, pensiero, insomma, quella che era la sua teoria. Quindi, ecco, anche il marxismo ha necessità di essere aggiornato. Lenin ha fatto questa operazione e ci ha, oltretutto, dato delle nuove categorie che Marx non aveva potuto elaborare, anche perché, appunto, il sistema non era ancora giunto a maturazione, e quindi è fondamentale questo aspetto. La soggettività è la, come dicevi, appunto, non solo della classe, ma anche del soggetto politico, è decisamente fondamentale. Anche qui segnalo un elemento, l'idea del partito, appunto, col centralismo democratico, inteso appunto nel che fare, eccetera, viene visto come da alcuni un dogma. Bisogna rifare così perché altrimenti non si è leninisti. Oppure il, come dire, il peccato originale di tutto quello che è avvenuto dopo. Ecco, io penso che anche qui bisogna leggere Lenin per capire che un partito si organizza a seconda di un contesto, di una condizione. Un partito rivoluzionario non partecipa alle elezioni parlamentari se il contesto non lo consente, ma vi partecipa se in qualche modo questo può dare degli elementi per far fare passi avanti appunto al movimento rivoluzionario, alla classe. Quindi ecco, non c'è una, come dire, regola, diciamo, definitiva e unica. L'unica regola è quella della valutazione di quelli che sono appunto i vantaggi e gli svantaggi. In certi momenti si deve arretrare e quindi si fanno dei passi anche indietro. L'importante è non perdere l'obiettivo. Si fanno passi indietro non per abbandonare l'obiettivo appunto della trasformazione rivoluzionaria, ma per ripartire appunto per, diciamo, riaggregare le forze. E qui si apre la questione, però magari ne parliamo dopo anche della NEP, che anche a me sembra, l'ho inserita appunto con un elemento importante da, come dire, su cui riflettere rispetto a quello che è stato. Assolutamente no, mi trovi pienamente d'accordo. Infatti ci andiamo là, perché comunque diciamo, tra i brani ovviamente, se tu riporti all'interno di questa antologia, hai messo pure dei brani dell'estremismo, no? Malattia infantile del comunismo, che proprio vanno ad indicare, a mio avviso, quelli che sono questi elementi settari che tu hai annunciato, nel senso, no? O il rifiuto totale della partecipazione alle elezioni o alle alleanze, e quindi dure pure. In realtà si rischia, c'è sempre questa tendenza, poi dopo anche a livello storico, no? La vediamo che, per cui gli aristotelici sono più aristotelici di Aristotele, no? E questo qua è successo, e se ti pensi ai fatti di Galileo Galilei, nel senso, no? Aristotele avrebbe preso il binocolo, avrebbe guardato il cielo con il binocolo, invece gli aristotelici poi dopo hanno stato schiantati contro di loro. E così a volte, secondo me, c'è questa tendenza estremista alla dogmatizzazione di un pensiero, di una persona che soprattutto non voleva, e proprio come hai detto, non è mai stato dogmatico. E non è mai stato dogmatico, secondo me lo vediamo anche in due momenti fondamentali, no? E tu li riporti qua nel libro. Il primo momento fondamentale è appunto quello della nuova politica economica. Perché? Perché usciti dal comunismo di guerra, Dienin richiede un cambiamento totale. E soprattutto, secondo me, emerge anche, poi qua ti lascio la parola anche alla fine, quando negli ultimi anni, no? Nello scritto comunque, meglio o meno, ma meglio, sostanzialmente abbandona l'idea della rivoluzione in Occidente, in quanto si rende conto che non è più possibile, e dice, ok, l'Occidente non è possibile, ma c'è tutto il resto del mondo. E questa qua, secondo me, è l'altra delle grandi legacy, no? Che Lenin ha lasciato. Sì, dunque, partiamo dalla NEP. La NEP, vista come il ritorno al capitalismo, il tradimento da qualcuno, una specie appunto di passo indietro, no? Vabbè, abbiamo sbagliato. In realtà, più che abbiamo sbagliato, abbiamo forse, come dire, forzato, e soprattutto ricordiamo il comunismo di guerra, il cosiddetto comunismo di guerra, aveva prodotto delle difficoltà grossissime sul piano economico, ma in una condizione appunto di guerra civile, di scontro durissimo. Quindi, chiaramente, era stata anche in quel caso, come dire, una specie di applicazione, non dico necessaria, ma insomma, in qualche modo era condizionata da quella che era la situazione appunto dell'aggressione delle potenze occidentali. e delle armate bianche. Finita, vinta la guerra civile, diciamo, di fatto, in procinto di nascere l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, beh, si tratta anche di rimettere in moto, ridare fiducia appunto alla popolazione, dare il respiro alla popolazione e si è aperto a questo spiraglio non tanto di un ritorno al capitalismo, nel senso che non sono state svendute o rivendute le fabbriche, i settori strategici, diciamo, dell'economia produttiva, finanziaria, le banche o altro, ma ridare il respiro al commercio prevalentemente appunto dei piccoli medi proprietari terrieri, che erano quelli che erano stati appunto, erano stati espropriati, erano stati, insomma, anche in maniera violenta, poi cosa che rifarà successivamente Stalin in maniera brutale. lo fa per dare, rilanciare un paese che non aveva, e su questo insomma sicuramente l'Eni non è che faceva finta, non capiva che cosa fosse la Russia, un paese che non aveva ancora raggiunto pienamente, compiutamente il livello capitalistico, quindi si trattava di dare respiro a un'economia controllando, facendo controllare dal partito, dal partito appunto, dal nuovo Stato che si stava costituendo queste dinamiche. E io ricordo sempre una lezione di Giacquet che qualche anno fa presentò anche lui molto più autorevole una selezione appunto di testi di Lenin in occasione del centrale del 17 e in questo incontro che facevamo fece una allusione, insomma, a volte gliel'ho ricordato e gliel'ho detto sì, vabbè, ma insomma non aveva una, non ha un fondamento teorico, però mi è sembrata molto suggestiva che la Cina abbia adottato in questi ultimi anni, decenni, una sorta di NEP su scala molto più, come dire, ovviamente grande. Mi sembra suggestivo perché mi pare che colga un aspetto. Paesi che non hanno, come dire, avuto lo sviluppo capitalistico classico, che poi in realtà l'ha avuto solo sostanzialmente l'Inghilterra e se vogliamo gli Stati Uniti. Gli altri paesi, a partire dalla Francia, tantomeno la Germania o l'Italia, hanno avuto, diciamo, uno sviluppo, come dire, secondo appunto il modello classico, hanno avuto anzi interventi statali, interventi perché la società era diversa. Quindi, ecco, mi è sembrato che quest'idea che insomma anche il capitalismo come il socialismo non possa avere un unico come dire, un unico modello, un unico tipo di sviluppo ma appunto si sviluppa a seconda di quelle che sono le condizioni, quelle che sono anche le culture che si intersecano nei vari paesi perché chiaramente un conto è partire dal paese che ha fatto la rivoluzione un continente in cui insomma si sono diffusi i principi della rivoluzione francese e un altro conto è partire da paesi che hanno un'altra diciamo base anche di mentalità modernizzare significa anche come dire non scendere a patti ma insomma avviare un percorso che faccia prendere coscienza a questi diciamo a questi popoli che occorre fare dei passaggi quindi ecco la NEP mi è sembrata particolarmente significativa in questo contesto poi chiaramente insomma sarà superata da quella che saranno i piani quinquennali la politica staliniana ecco la cosa che mi sono domandato scusa se mi allungo un attimo è questo ma appunto lì Alimone nel 24 e poi di lì oltre le purghe ma non affronta e non riesce a vedere non sa come non sappiamo come avrebbe affrontato la questione dei fascismi e la questione appunto di quella che sarà poi l'aggressione all'Unione Sovietica cioè di fronte al riarmarsi della Germania di quella che poi è stato l'attacco appunto all'Unione Sovietica Lenin cosa avrebbe fatto avrebbe come dire sposato la politica di industrializzazione diciamo forzata di Stalin oppure avrebbe fatto un'altra scelta che appunto non possiamo sapere non possiamo intuire magari sarebbe stato anche lui oppositore insomma tutte domande ovviamente che però mi sono come dire sembrate utili per cercare di capire come affrontare la differenza che risposta hai dato Bruno Giovanni io ti dico poi dopo le mie se vuoi ma senti io mi sono dato questa risposta nel senso che credo che Lenin avesse una grande cioè che fosse il rivoluzionario dei rivoluzionari penso che nessuno possa metterlo in discussione ma avesse una grande capacità appunto di imparare dalla situazione dalla realtà quindi nel momento in cui appunto nasceva il fascismo se sarebbe avrebbe se avesse visto appunto nascere il il nazismo credo che avrebbe dovuto in qualche modo come già aveva intuito che fosse necessario insomma rivedere alcuni aspetti rispetto alle dinamiche almeno in Europa a differenza di Stalin io credo che Lenin avrebbe avuto la capacità come ha mostrato insomma finché è stato possibile è stato possibile di come dire sì mantenere il pugno di ferro ma allo stesso tempo tenere aperto il dialogo con i vari settori sociali cosa che a mio giudizio diciamo è l'elemento più non voglio dire debole ma insomma più discutibile di Stalin insomma che io sono sempre stato diciamo sul piano politico antistalinista nello stesso tempo sul piano storico politico riflette e cerco di capire anche se ci fosse stata certe scelte insomma l'Unione sovietica non avrebbe vinto la guerra esattamente esattamente e metto mi trovo pienamente d'accordo nel senso che comunque almeno pur anche per come la vedo io penso che da un punto di vista delle scelte da un punto di vista storico la NEP era entrata in contraddizione no perché quasi anche quando una volta ne parlano no quando parlano soprattutto adesso va molto di moda no parlare del massacro dei contadini in Ucraina della esterminazione della come classe sociale dei kulaki è molto pompato in occidente questo discorso è in dubbio che da un punto di vista metodologico la cosa sia sbagliata però come al solito non si ricostruisce da un punto di vista storico quello che è successo sia la contraddizione della NEP il fatto che la maggior parte dei kulaki bruciavano il raccolto ammazzavano gli animali ma c'erano mancare gli approvvigionamenti alle città e dunque ovviamente proprio per evitare perché perché evitavano in questo modo alimentando la borsa nera andavano ad arricchirsi di più rispetto che donare le eccedenze e venderle sul mercato donare allo Stato e vendere le eccedenze quindi la contraddizione ha richiesto ovviamente nel momento storico un momento un pugno di ferro e richiede un pugno di ferro in un momento in cui tutto il mondo entra sostanzialmente in crisi la crisi ovviamente del 29 e soprattutto l'industrializzazione forzata è l'elemento fondamentale che ha permesso all'Unione Sovietica di vincere la seconda guerra mondiale e liberare l'Europa allo stesso modo concordo con te proprio perché Lenin più di una volta dentro la sua storia ha dimostrato di essere anche lui stesso in minoranza e rimettere tutto alla conversazione alla discussione all'interno all'interno del partito e quindi secondo me sicuramente sarebbe riuscito a gestire magari il consenso in modo differente e a portare avanti delle scelte differenti che poi non avrebbero eliminato la componente sinistra e la componente destra del partito comunista bolshevico con tutte le conseguenze che ne sono derivate comunque Giovanni io ti ringrazio mostro ancora una volta qua il tuo libro il libro si può acquistare su Amazon Giovanni Bruno Lenin teorie e prassi una vita per la rivoluzione socialista posso ho due minuti proprio per aggiungere una cosa che credo sia importante aggiungi assolutamente no rispetto alla questione della insomma questa sia attuale della della questione della pace della guerra ecco anche su questo io credo che bisogna appunto mettere in evidenza come Lenin non fosse un pacifista fosse contro la guerra imperialista e per la guerra rivoluzionaria il che non significa appunto che necessariamente la rivoluzione è solo in punta di fucile ma che nemmeno ci si può aspettare semplicemente come si no una resa che si diventi diciamo pacifista questo è un aspetto importante perché siamo impegnati come sai appunto visto che appunto parliamo di attualità anche con a costruire la lista insomma come rifondazione per insomma che ha lanciato l'ho lanciato Santoro e la valle ecco ecco insomma come comunisti stiamo dentro questa lista però ecco dobbiamo starci con l'attenzione di evidenziare che qui c'è una guerra imperialista che si sta sviluppando e ecco dare un pochino diciamo di sostanza di analisi e anche di prospettiva anche a Santoro che insomma sicuramente è una persona coerente e anche insomma è stato a suo tempo insomma un compagno di conoscere le questioni e che oggi si rivolge insomma in maniera un pochino più general generica io credo che i comunisti abbiano un ruolo molto importante non solo nella lista ma insomma in generale in questa fase molto drammatica che si sta aprendo assolutamente guarda quindi lei ci serve assolutamente è fondamentale i problemi i problemi sono cominciati quando si è svesto di studiarlo Giovanni sono cominciati i problemi comunque ti ringrazio veramente ci sentiamo ci sentiamo presto anche per altre per altre per altre conversazioni grazie grazie a tutti